I suoni di una giovanissima band multietnica per le vie del centro di Prato hanno accompagnato l'apertura dell'edizione 2018 di Mediterraneo Downtown, il primo festival sul Mediterraneo contemporaneo promosso da Regione Toscana, Cospe e Comune di Prato, anteprima dedicata ai 65 giornalisti che nel 2017 hanno perso la vita a nome della libertà di stampa, poi focus su immigrazione, tratta, sfruttamento del lavoro e politiche di accoglienza, vietato parlare di invasione, ha detto l'assessore regionale all'immigrazione Vittorio Bugli, i richiedenti asilo in Toscana sono solo il 3 per mille della popolazione. La Toscana è una delle regioni più attaccate, più vicine al Mediterraneo, i paesi del Nord d'Africa possono essere non solo da analizzare in quelle che sembrano essere delle preoccupazioni, ma da analizzare anche per quelle che sono le grandi opportunità che può offrire il Nord Africa per il nostro paese e per la nostra regione. Il festival è stato anche l'occasione per la firma di un protocollo tra Comune di Prato e Procura della Repubblica che stringe ancora di più le maglie contro lo sfruttamento del lavoro, intanto gli ultimi dati dicono che la popolazione residente straniera è cresciuta di 5.000 unità nel 2016 rispetto al 2015, numero pari ai nuovi nati stranieri. Stiamo attenti, ci sono oggi dati Istat che ci parlano del crollo di nascita nel nostro paese, stiamo attenti che non possano essere utili e indispensabili anche per la crescita del paese. Al centro del festival anche i racconti delle città del Mediterraneo, indicate da cartelli posti simbolicamente nelle strade del centro e raccontate da mostre, eventi teatrali e cinematografici. Grazie. 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 Grazie.